Che cosa c'è, se lo chiedi a te stesso, tu ancora non sai cosa vuoi. Non dirmi che, solo adesso ho capito il dolore che soffoca a chi, dentro il silenzio che con un'ombra si attacca addosso togliendo il respiro. Di chi soffre poi, lei che non sa, quante notti di insonnia vissute che verranno ancora. Se provi un po', a pensare alle donne che hai fatto soffrire anche tu. Vedi che strano, invaghirsi e può soffrire maledettamente perché non ricambierà. Adesso cosa succederà? L'idea che forse non sarà tua. Cosa farai? Hai capito poi quello che succede a chi pensa sempre adesso. Spera che lei, non farà mai l'errore che hai fatto tu quando per te. C'è chi soffriva come un rado. L'incertezza che non ti aspettavi dentro di te. Adesso cosa succederà? Tra tanti dubbi e la nostalgia. Aver paura del buio e poi, sperando che la notte va via. Ma non è facile per niente, sai, cacciarla via dalla mente tua. Lottare senza può escludere mai l'idea che forse non sarà tua. Grazie a tutti.